Grazie mille, il progetto Seller Furniture è basato su una piattaforma, una piattaforma digitale dove qualsiasi utente può personalizzare i propri arredi, quindi tramite dei tool molto semplici da usare può scegliere le varie finiture del suo progetto, che comprende una collezione composta da tavoli, sgabelli, librerie e la cucina, chiamata cucina leggera. Il concept Seller Furniture è basato su quattro concept fondamentali, il primo è la personalizzazione, il secondo è la digital fabrication, che è legata al fatto che ogni arredo è pensato su un sistema parametrico, quindi adattabile in base alle esigenze del cliente, quindi ogni singolo pezzo l'unicità è lo standard fondamentalmente, non abbiamo pezzi prestabiliti ma ogni pezzo viene fatto su misura. Successivamente viene realizzato con macchina controllo numerico, questo ci consente appunto di creare una produzione praticamente sartoriale e infine l'ultimo passaggio che è allo stesso molto importante è il montaggio di ogni arredo che avviene solamente tramite incastri, quindi non utilizziamo né viti né colle, quindi ogni arredo è appunto montabile in pochi minuti e con grande facilità. La carità è molto interessante, io ho avuto un percorso, una formazione anche molto etereogenea, perché ho studiato prima economia e poi design, quindi per me la creatività è appunto riuscire ad applicare nel proprio lavoro e nel proprio quotidiano quelle che sono appunto le passioni, le sensazioni, quello che la propria passione viene da portare avanti e quindi nel proprio lavoro quotidiano. Sicuramente infatti tutto parte appunto dal concept iniziale, quello appunto di riflettere su in che modo si può creare un'interazione, ragionare l'interazione che c'è appunto tra l'utente e il mobile, e quindi l'arredo, quindi in che modo può anche sceglierlo, quindi in maniera diversa rispetto a quello che magari ha fatto fino adesso. Nel tutto però secondo me la responsabilità principale dei designer, dei giovani designer, come li vogliamo chiamare, è quella di pensare non solo il prodotto ma anche il modo in cui questi prodotti vengono al mondo, il mondo in cui nascono, il modo in cui vengono pensati, il loro ciclo produttivo. Quindi con seller furnicero il tentativo è proprio quello di appunto di abbattere i costi, di incentivare anche, di stare attenti diciamo all'impatto ambientale della produzione degli aree di stessa, quindi al trasporto, tutto deve essere appunto un sistema sostenibile. Quindi il concept, l'elemento principale appunto è ragionare su come questi elementi vengono realizzati, prima ancora degli elementi stessi. L'elemento cucina appunto nasce da un progetto appunto di ricerca, nasce quasi come una provocazione, diciamo che il tipico arredo appunto della cucina diciamo ha in genere una progettazione abbastanza rigorosa, in questo caso qua il tentativo è proprio di sovvertire a questo concetto, è creare una cucina che è composta da sette parti, tutte in castro e quindi montabile in pochi minuti, da chiunque senza utilizzo appunto di viti a colle. Con l'autentativo appunto di creare un concept che sia legato proprio alla facilità di creazione di un prodotto che in genere è molto più complesso invece renderlo il più facile e più semplice possibile.